E non mi ricordo che da piccolo avessi insomma dei grandi progetti, però sono stato fortunato perché dalla maestra elementare al mio primo maestro di pianoforte, a tutti gli insegnanti che ho avuto, i miei genitori, avevo poche idee e non confuse, poche idee chiare, cioè devi fare bene quello che devi fare, se vai a scuola devi fare bene quello, se vai a giocare a pallone non pensare di fare bene a scuola ma gioca bene a pallone, se devi studiare 10 minuti di pianoforte, studia 10 minuti di pianoforte e poi fai altro, cioè fare quello che devi e essere al 100% in quello che fai, e poi un'altra cosa, non è perché uno è così diventa un unico e diventa un'unicità, bisogna sviluppare la propria unicità e ogni bambino è un unico, non ce ne sarà un altro al mondo uguale a lui, ma la cosa che lo farà essere contento è di fare bene quello che fa in quel momento e facendolo bene farà un servizio anche a quelli che gli sono vicini e allora diventa quel discorso che non è importante che siamo stelle ma è importante essere circondati da stelle, allora anche se uno è un pianeta brilla di luce riflessa e ognuno fosse pieno di tutti i pianeti nell'orchestra e il compositore è la luce perché neanche il direttore d'orchestra è la luce, è la stella, però facendo passare questo, ognuno veramente brillerà e allora mi sono reso conto che non è importante fare cose grandi ma essere incredibilmente grandi in quello che si è chiamato a fare, ma se fai bene quello che fai avrai lo stesso valore di Gianandrea Noseda, di Giovanni Soldini, di tutti gli scienziati del mondo, di Christian Barnard perché ci hanno creduto e lo hanno perseguito, lo hanno fatto, è questo che bisogna insegnare.